Ciao amici di Radio Ucci, buon lunedì, sono Mattia e nel video di oggi settimana di pagamenti ma non solo da ricevere. Imu, saldo e stralcio ma anche reddito di cittadinanza, trattamento integrativo, assegno temporaneo e pensioni. Ma prima di cominciare, se hai domande scrivile nei commenti, se apprezzi il nostro lavoro di approfondimento quotidiano metti un like e se vuoi saperne ogni giorno di più su Fisco, Previdenza e Agricoltura torna a trovarci anche domani oppure iscriviti al canale e attiva la campanellina per non perdere nessun aggiornamento. Poi, se ti va, iscriviti anche al nostro secondo canale, Redazione Radio Ucci. E ora possiamo dare il via al nostro appuntamento di oggi. Parlando di pagamenti di questa settimana, cominciamo con i più imminenti e cioè quelli a cui i cittadini sono tenuti e vediamo per prime le scadenze di saldo e stralcio e rottamazione terra, per cui domani 14 dicembre è l'ultimo giorno disponibile per il versamento, altrimenti si decade dal diritto alla definizione agevolata. Vale la pena sottolineare che, come riporta anche il Sole 24 Ore, sono in tanti ad essere rimasti delusi da questa mini proroga che è stata concessa dal vecchio decreto di soli 14 giorni, cioè 9 di scadenza e 5 di tolleranza. E per questo in Parlamento ci sono tantissime spinte verso una nuova rateizzazione dei pagamenti che permetterebbe di includere di nuovo nella definizione agevolata anche chi salta la rata. Si tratterebbe comunque di un intervento che dovrebbe entrare nella prossima legge di bilancio, su cui nonostante i tempi stringenti la partita sembra lontana dall'essere chiusa. Dal 14 passiamo al 16 di dicembre, giorno di scadenza della seconda rata dell'IMU a cui però sono tenuti obbligatoriamente tutti i proprietari di seconde case, mentre c'è un ampio ventaglio di esoneri parziali o totali, tutti legati alla pandemia Covid, ma ce ne sono anche altri. Quindi occhio alla data. Passiamo così da questi pagamenti dovuti a quelli in attesa, a partire dal rimborso IRPEF del 730 2021 per chi non ha sostituto d'imposta e attende il versamento dall'Agenzia delle Entrate. A tale proposito ci tengo a precisare una cosa, anche in questo caso i pagamenti non sono uguali per tutti, ma sono estremamente variegati e anche se in tanti ci hanno segnalato di riuscire a vedere la ticitura in liquidazione rispetto al rimborso, questi dovrebbero partire indicativamente dalla metà di questo mese e continueranno per tutti con un margine che però può arrivare fino a marzo 2022, soprattutto per chi non ha comunicato il proprio IBAN all'Agenzia delle Entrate direttamente o tramite intermediario. E adesso è la volta della settimana successiva, quella che va dal 20 al 26, in cui invece i pagamenti saranno da ricevere. Apriamo le danze con la data certa rispetto al trattamento integrativo su NASPI ex bonus Renzi, per cui iniziano a uscire le date di pagamento a partire dal 20. Date in conguaglio, quindi occhio a cui si aggiunge il potenziale super anticipo natalizio del reddito di cittadinanza che, come negli anni passati e a meno di brutte sorprese, dovrebbe arrivare prima di Natale. A ciò si dovrebbe aggiungere, per come ci ha abituato l'Inps negli ultimi mesi, anche una nuova elaborazione dell'assegno contemporaneo, rivolta in maniera specifica a chi attende mensilità arretrate. Come sappiamo, infatti, la rata relativa al mese di novembre è arrivata con le prime elaborazioni RDC, cioè a partire dal 10 di dicembre, mentre per la rata aspettante per il mese di dicembre ci toccherà attendere, secondo lo sfalsamento di un mese, con le elaborazioni di gennaio. In ultimo punto interrogativo sulle pensioni relative al mese di gennaio, che in accordo con lo stato di emergenza che scade alla fine dell'anno e nel dubbio di una ulteriore proroga, di natura ancora incerta, dovrebbero arrivare per la fine di dicembre, ma per cui manca ancora il calendario ufficiale, con grande probabilità non prima del 20, giorno in cui attendiamo anche i cedolini, con i nuovi conguagli e lo pseudo aumento, più precisamente la rivalutazione delle pensioni alla luce dell'aumento dei prezzi Istat. Detto questo io ti ringrazio per aver guardato fin qui, se hai domande scrivile nei commenti e se l'approfondimento ti è piaciuto metti un like e iscriviti al canale e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao! Ciao!